Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo come sempre, ben ritrovati qua nel solito, usuale e a voi ben conosciuto disordine della mia libreria. Allora, faccio questo video per rispondere ad una domanda che mi è stata fatta qualche giorno fa su un commento a uno dei miei video sul mio canale YouTube. Ho parlato del mio scarso apprezzamento per storici, tra virgolette perdonate il gesto ignobile ma deve rendere l'idea, del mio scarso apprezzamento per storici come Pansa o Baroni. Allora, il fatto è semplicemente questo. Allora, di Pansa io penso tutto il male possibile, immaginabile, non perché scrive male dei partigiani, non perché racconta il lato oscuro della resistenza, non perché dice cose ancora, tra virgolette, scomode, ma semplicemente perché i suoi non sono libri di storia, sono romanzi, sono il regno del sembra, del pare, del si dice, si racconta. Ok? Non c'è uno straccio di documento, non c'è uno straccio di prova storiografica. I libri di Pansa, fateci caso, innanzitutto sono romanzi, seconda cosa, sono libri in cui le notizie che vengono riferite sono veramente il regno dell'ipotesi, del sembra, del pare, del si dice. E io mi sono letto Il sangue dei vinti, oggettivamente l'ho trovato un romanzo mediocre e soprattutto come libro di storia non è che abbia un gran valore, ok? Allora, per quello che riguarda Baroni, invece, il discorso è un pochino più complicato. Perché Baroni... Allora, premete una cosa, io non ho titoli accademici e lo sapete bene. Due, sono un completo autodidatta con la terza media. Lo ripeto per l'ennesima volta. Tre, le uniche fonti sulle quali posso basare le mie ricerche non sono né archivi, né dati, né fonti di prima mano. Sono i libri che ho letto. Non li ho mai contati con precisione, ma dovremmo essere sui... ...tremila, credo, forse anche qualcosa di più. Però, dicevo solo questo. Ho imparato, nel corso degli anni, leggendo, a saper discernere un pochino le cose. Il pezzo forte di Baroni è la cosiddetta storia del tradimento. Tutte le teorie di Baroni si basano sul tradimento, sul tradimento, sul tradimento. Il tradimento degli alti gradi dell'esercito, il tradimento di Badoglio, il tradimento della Marina, il mitologico tradimento della Marina, il tradimento di questo, il tradimento di quello, il tradimento di quell'altro. Il povero Mussolini tradito da tutti. Io mi sono guardato un po' di video del Baroni che parla con Ubaldo Croce. Allora, sapete bene che tra me e Ubaldo Croce non c'è la benché minima simpatia, perché ritengo che Ubaldo Croce sia un personaggio che, insomma, come dire, dovrebbe fare tutt'altro che occuparsi di storie. Ho sentito quello che diceva Baroni e oggettivamente, dico la verità, ci sono delle cose che mi hanno lasciato molto perplesso. Parlando un attimo seriamente, nei limiti imposti dal mio personaggio e dal mio essere e dai miei limiti culturali e, diciamo, formativi, perché ripeto, io non sono un accademico, io non sono un professore, io sono un semplice appassionato di storia con la terza media che si è letto dei libri e che mi sono fatto qualche idea personale, idee che sono sempre stato disposto a cambiare quando venivano confutate in base a documenti o quant'altro, ok? Dicevo, il pezzo forte di Baroni è il tradimento, il tradimento, il tradimento, hanno tradito il povero Mussolini, hanno tradito l'Italia. Il problema di Baroni è anche di chi gli dà retta, e non mi riferisco tanto ai suoi lettori, ma quanto a certi personaggi che lo fanno parlare o che interagiscono con lui, dicevo, il problema di Baroni è essenzialmente uno. Baroni si dimentica, tutto preso dall'ansia di dimostrare il tradimento, si dimentica che ministro della guerra, ministro della marina, e ministro dell'aviazione fu cioè insomma che le cariche di questi tre ministeri guerra, aviazione e marina il ministro, insomma il detentore di questi ministeri fu Mussolini. dal 1933 al 1943 Mussolini accentrò su di sé tutte, e ripeto e sottolineo, tutte le cariche ministeriali relative all'impianto e allo sforzo bellico italiano. va bene, c'erano i sottosegretari, i viceministri, Cavagnari, Badoglio, Pricolo, Valle, Balbo, eccetera eccetera, cioè coloro che in pratica gestivano la baracca delle quali Mussolini deteneva le cariche. però, 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 ripeto, quegli uomini, quegli uomini, quegli uomini, da chi erano stati scelti? Tutti gli alti gradi dell'esercito, tutti gli alti comandi, tutte le carriere nelle nostre forze armate, da chi erano gestite e vagliate se non da Mussolini? gli uomini che erano al comando dell'esercito, cioè, ripeto, Baroni si dimentica clamorosamente, o fa passare un pochino in sordina, diciamo così, la faccenda che per dieci lunghi anni l'arbitro assoluto, il gestore indiscusso, il padrone totale di tutto l'apparato bellico italiano era Benito Mussolini, che aveva centrato su di sé le cariche di ministro della guerra, di ministro della marina e di ministro dell'aviazione. E chi è che mise tutti coloro che si dimostrarono vili, pavidi, incapaci, superficiali, inetti, ebefrenici, ritardati e coglioni? Lo sciaboletta Bagonghi di Savoia? Direi proprio di no. Logico, c'erano ufficiali monarchici, c'erano ufficiali che dovevano le loro carriere alla monarchia e alla dinastia Savoia. Logico, però il problema è semplicemente questo, che tutte le carriere degli alti comandi, cioè tutte le carriere della massa di ritardati da Badoglio, Graziani, Pariani, Soddu, Visconti Prasca, eccetera, 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 che affollavano gli alti gradi delle nostre forze armate di cielo, di terra e di mare, non erano certo salite lì per grazia di Stalin o per via delle spinte di Churchill. Eh, signori, ragioniamoci un attimo. Se si accusa la marina, l'esercito, l'aviazione di tradimento, bisognerebbe anche ricordare chi mise quegli uomini, chi gli affidò quegli incarichi, quelle cariche, quelle poltrone, chi mise le mani, cioè chi mise nelle mani di gente come Badoglio, Pariani, Graziani, Soddu, Visconti Prasca, Roatta, Cavallero? Chi è che li mise lì, in quelle cariche? San Fracazzo da Velletri? Eh, insomma, scusate se ve lo dico, la teoria del tradimento può essere presa per buona. C'è chi crede alle scie chimiche, c'è chi crede ai vaccini che ti rendono autista, c'è chi crede alla terra piatta. E c'è chi crede alla teoria del tradimento, sono cazzi suoi. Il problema è che a questo credere alla teoria del tradimento si accompagna una clamorosa amnesia su chi aveva messo quegli uomini in posizioni di comando. Non li aveva messi lì il re che per tutto il ventennio si disinteressò praticamente della gestione dello Stato e delle cose militari lasciandole tutte a Mussolini? Perché sappiamo bene che Vittorio Emanuele III era uno che amava regnare ma non governare. E questa teoria delle spie, dei traditori, di coloro che in base al complotto demoprutocratico, giudaico-massonico, in base al complotto antifascista, in base al complotto monarchico, eccetera, avrebbero tramato per anni per boicottare Mussolini e la sua idea di guerra, è una cosa che non sta in piedi. perché basta semplicemente a mio modesto parere che non sono nessuno, però ripeto un minimo di autonomia di pensiero ce l'ho, dicevo tutta questa idea non sta in piedi. Perché? Perché tutta quella gente che viene accusata di tradimento ai danni del Duce e dell'Italia era stata messa lì dal Duce. Cioè quando siamo entrati in guerra nel 1940 Mussolini deteneva da sette anni ormai le cariche ministeriali relative all'impianto bellico italiano. Ripeto, ministro della guerra era Mussolini, ministro della marina era Mussolini, ministro dell'aviazione era Mussolini. e vuol dire, se si continua a credere alla fischionata del tradimento di chissà chi, vuol dire semplicemente che Mussolini non sapeva scegliersi uomini e collaboratori. La realtà, ripeto, non è il tradimento degli alti comandi nei confronti del comandante in capo Mussolini, Mussolini, cavalier benito, collare dell'annunziata, cugino del re e primo caporale d'onore della milizia, nonché primo maresciallo dell'impero e Duce del fascismo. No, non ci fu un tradimento, ci fu qualche cosa di peggio. Ci fu un incapace come Mussolini che, prigioniero del proprio stesso potere della propria ansia di potere, si circondò volutamente di incapaci, di servi, di leccapiedi che trasformò le forze armate in una fucina di carrieristi che stavano lì solo per riscuotere la paga, accumulare cariche, basti vedere Badoglio, basti vedere Graziani, basti vedere Cavallero. E, come dire, questa gente qui, ripeto, chi ce l'ha mise in quelle posizioni? Io? Il re? Churchill? Stalin? Roosevelt? Dall'Adie? Chi ce li mise in quelle posizioni, quegli uomini incapaci, quegli uomini inetti, quegli uomini pessimi e ridicoli? Chi ce li mise? Chi ce li mise se non l'uomo che gestì per dieci anni in maniera incontrastata, in maniera autonoma, in maniera completamente totalitaria, se vogliamo, la macchina bellica italiana, tutto l'impianto bellico italiano? Ripeto, se cercate un traditore lasciate perdere. Lì ci fu peggio del tradimento, ci fu una persona militarmente incapace che volle a tutti i costi assumere ruoli per i quali non era preparato e che si circondò volutamente di incapaci, altro che tradimento. Il mio motivo della scarsa stima che ho per le teorie di Baroni e per i suoi seguaci è essenzialmente questo, perché dicono ci hanno tradito, ci hanno tradito, ci hanno tradito, ma questo vuol dire che chi ha messo lì quei traditori? Una persona che evidentemente non sapeva scegliere i propri collaboratori e quella persona va ricondotta alla figura e al nome di Mussolini. Tutto qua. Chiaro? Ecco spiegato brevemente, spero di essere stato sufficientemente chiaro, del perché non ho molta stima di Baroni come storico e la mia personale inimicizia e scarsissima stima con il suo sodale Ubaldo Croce, c'entra relativamente poco. Io cerco di essere, il fatto di essere un autodidatta, il fatto di non avere una formazione accademica, il fatto di essere un semplice appassionato, il fatto di avere soltanto letto libri e di non avere esaminato documenti originali perché non sono uno storico, mi costringe, tra virgolette, a dover cambiare spesso idea, mi costringe a dover ragionare con la mia testa. Ok? Cosa che il signor Baroni non fa assolutamente perché? Perché limitandosi a questa teoria del complotto sul tradimento, sulla inaffidabilità dei nostri altri gradi militari, dimentica sempre di dire che quei gradi militari, quei personaggi fecero carriera solo grazie ad una persona, Mussolini. Mussolini, ripeto, ed è dimostrato ampiamente da come si svolse la nostra guerra, era un incompetente militare che si circondò volutamente di incapaci, altro che spie, altro che traditori. Tutto qua, ritengo che non ci sia altro da dire. Quindi, cari signori, io vi chiedo scusa per la verbosa tirata, spero che la mia spiegazione sul perché non amo molto le teorie di personaggi come Pansa e Baroni, ripeto, se volete confutate pure le mie affermazioni. Io sono qui apposta, ripeto, i commenti sono liberi, se non siete d'accordo con me, ditemelo pure. So benissimo che a certa gente non sto simpatico, ma non posso farci niente. Contrariamente a certi personaggi, io, come dire, cerco di esporre le cose che so, cerco di esporre le cose che penso. Se poi le cose che so sono poche, sono limitate, e se le cose che penso sono sbagliate, voi dovete dirmelo e spiegarmi il perché. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio per l'attenzione e di nuovo arrivederci al mio prossimo video. Buonasera.